Scegli la bambola con cui giocare toccando la sua casetta sulla mappa Dottoressa Dotti, scegli il cucciolo di cui vuoi prenderti cura Oh, sembra che Lulu non sia bene La aiuteremo Per prima cosa, disinfettiamo E adesso una punturina! Scorri il dito per farle all'iniezione Ci siamo quasi! Le metteremo un cerottino Ecco, adesso sta molto meglio Benissimo, hai ottenuto nove stelline Dottoressa Dotti, scegli il cucciolo di cui vuoi prenderti cura Oh, povera Dotti, si appunta con una spina Trascina le spine per toglierle Ora, disinfettiamo le ferite E per finire, mettiamo una benda Fantastico, è già guarita Benissimo, hai ottenuto nove stelline Dottoressa Dotti, scegli il cucciolo di cui vuoi prenderti cura Cleo continua a grattarsi Cleo continua a grattarsi, vediamo un po' cos'ha Spazzola Cleo per scoprire che cosa le succede Oh, sembra che Cleo abbia le pulci Fai clic sulle pulci per farle sparire E adesso un po' di spray protettivo per non farle tornare Ben fatto, adesso sta bene Benissimo, hai ottenuto nove stelline Giochiamo! Guarda com'è contenta Yeeey Scaricala subito